Francesco De Lisio, un tifoso rosso-blu davvero accanito, direi giovane tifoso che ci tiene tantissimo come tanti altri alle sorti del Campobasso. Sono giorni nei quali il presidente De Lucia non risponde più al telefono, è praticamente irreperibile e ci ha anche detto che è fuori per motivi di lavoro. Ma il tifo, quello che serpeggia nel tifo, quale stato d'animo è? Io ti parlo a titolo personale perché poi ogni tifoso ha la sua storia e quindi ha il suo stato d'animo. Per quanto mi riguarda serpeggia molto scetticismo perché siamo passati dall'ennesima sfilata di dichiarazioni, proclami, addirittura c'è stata la festa. Qualche giorno fa presso Contrada Selvapiana nel quale sembrava ci fosse l'intenzione di ripartire di slancio verso la nuova stagione. A quell'evento poi è seguito il silenzio più totale e quindi diciamo anche piuttosto logicamente si addensano delle nubi sul futuro del Campobasso. Hai parlato giustamente di questo contrasto fin troppo evidente tra la festa di dieci giorni fa con conferenza e questo silenzio ormai prolungato da parte della proprietà. Ma in generale se vogliamo ampliare il nostro raggio visuale anche durante la stagione che si è appena conclusa, sono state promesse davvero tantissime cose, ripescaggi, la vittoria stessa del campionato, pagamenti verso i giocatori che non sono mai arrivati. Va ampliato l'orizzonte? Sì, se vogliamo avere uno sguardo più d'insieme sicuramente quello che ci siamo lasciati alle spalle non è certo un esempio di gestione secondo me positiva. Bisogna dare atto magari alla società che è subentrata di aver ripianato una parte dei debiti. Ora è anche vero che però una società di calcio secondo me non si può gestire solo con i post su Facebook del lunedì mattina. Oppure è stata evidenziata una incertezza sotto il profilo tecnico perché comunque l'avvicendamento dell'allenatore, la squadra è stata stravolta e le varie pendenze che adesso stanno venendo alla luce fanno emergere un quadro dove il timone non è stato poi in mani così ferme come magari c'era bisogno che fosse. Spesso nei servizi diciamo povero tifoso rosso blu questa esclamazione perché deve stare dietro a tante cose, ai rapporti interpersonali, pare si siano già deteriorati quelli tra la proprietà e il nuovo socio Tilia. Insomma deve andare dietro a tantissime cose che possono anche interessare molto poco. E poi mi confidavi anche c'è una stanchezza fisica e mentale in alcuni di noi tifosi. Io credo che siamo purtroppo ormai assuefatti ad anni di delusioni, di mazzate se mi passi il termine un po' più crudo e le prese in giro che sono dietro l'angolo fanno parte purtroppo di questa assuefazione. Però permettimi di dire che gli unici che non se la meritano sono proprio i tifosi. E io parlo dei tifosi che sono anche più presenti, più affezionati di me stesso perché io purtroppo nonostante tu mi definisci accanito negli ultimi tempi ho sofferto anche io per me una specie di parziale disaffezione verso la squadra. Però credo che i tifosi siano gli unici che non se la meritano questa situazione qui. Ecco l'ultima cosa, ritorniamo all'attualità, siamo a fine giugno, i termini per l'iscrizione scadono l'11 luglio a una determinata ora e il tifoso del Campobasso che cosa pensa in questo momento? Il tifoso del Campobasso credo che riviva quello che è un po' lo stato d'animo di quasi tutte le stati degli ultimi anni. Un enorme punto interrogativo se la squadra sarà iscritta, ammesso che sarà iscritta, che tipo di squadra verrà messa in piedi oppure di che morte dovremo morire perché poi voglio dire non esistono le vie di mezzo. Se non ti iscrivi sei fallito e quindi da qualche parte dovrai comunque ricominciare. Anche perché credo che è impensabile una città capologo di regione senza squadra di calcio.